Dopo aver frequentato la Scuola d'Arte a Roma, e dopo anni di esperienza a teatro con importanti registi quali Arnoldo Foa, Ennio Coltorti e Angelo Orlando, esordisce nel cinema nel 1995 con una piccola parte nel lungometraggio L'anno prossimo vado a Letto alle 10, diretto da Angelo Orlando. Le sue migliori interpretazioni sul grande schermo si possono apprezzare in film come L'odore della notte, di Claudio Caligari, Almost Blue, di Alex Infascelli, L'ultimo capodanno, di Marco Risi, 3.6, di Nicola Rondolino, Barbara, di Angelo Orlando, e Non ti muovere, di Sergio Castellitto. Dal 2008 al 2010 è stato il terribile nella serie tv romanzo criminale La Serie. Nel 2009 ha interpretato il ruolo di Renzo Perugini, capo della squadra antimostro, in Il Mostro di Firenze. Ha partecipato al film di Carlo Verdone Io, Loro e Lara uscito nel 2010. Nel 2009-2010 è tra i nuovi protagonisti della famosa serie tv poliziesca La Nuova Squadra. Nel ruolo del vicequestore Andrea Lopez. Nel 2010 è tra i protagonisti del film di Sergio Castellitto La Bellezza del Somaro. Nel 2011 compare In Tutti al Mare. Film di esordio di Matteo Cerami. Nel 2012 interpreta il ruolo di un poliziotto della celere nella pellicola drammatica H-Ball. Cops are Bastards. Per la regia di Stefano Sollima. Ed è tra i protagonisti del nuovo film di Carlo Verdone posti in piedi in Paradiso. Per questi due ruoli nel 2012 vince Il Mastro d'Argento al miglior attore non protagonista. Nel 2013 è tra i protagonisti del film Tutti contro tutti diretto da Rolando Ravello e interpretato dallo stesso regista e da Kasia Smutniak. Sempre nel 2013 interpreta il ruolo di un nonno rock nel film interpretato e diretto da Edoardo Leo. Buongiorno papà. Con Raul Bova e Rosabella Urenti Sellers. Nel 2015 partecipa al film Se Dio vuole con Alessandro Gasman. Sempre nel 2015 partecipa al film Loro chi? Con Edoardo Leo. Con Raul Bova e Rosabella.